Anna Maria Cariolina Emilia, Ego te battizzo in nomi di Padre. Anna Maria? Anna Maria? Anna Maria Cariolina Emilia, Ego te battuta in nomi di Padre. Madre Adorni fu favorita dal Signore di doni particolari. Tra questi si ricorda l'esorcizzazione di una carcerata posseduta dal demonio. L'opera di Anna Maria Adorni, vedova Botti, dunque non si ferma. Anna Maria Cariolina Emilia, piena di grazie. 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 Grazie.